Osani! 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 I bambini non devono usare quelle parole, lo sai? È un sacrilegio! E tu ne sei responsabile! Non avete mai letto i salmi? Le bocche dei bambini e dei lattanti hanno proclamato la verità. Ma voglio raccontarvi una piccola storia. Si racconta, racconta! Venite, sentite. C'era una volta un uomo che aveva due figli. E al primo figlio un giorno disse, va a lavorare la vigna. E il figlio disse no. Ma dopo ci ripensa e andò. Capito? L'uomo disse la stessa cosa anche all'altro figlio, il quale rispose, vado subito, ma non andò. Ora, quale dei due figli ha obbedito al padre? Il primo. Infatti il primo. E che significa questa storia? Che ci sono quelli che credono di essere giusti perché dicono sì a Dio. Ma con il cuore poi non lo seguono. Grazie. Grazie.